super trani 10 11 settembre 2022 palazzi trani sabato ore 12 22 domenica ore 10 22 bello che leggere al contrario fumetti manche giochi cosplay workshop hip hop hip hop non continui perché sennò impazzisco cosa rio contra comunque facciamo vedere i loghi o metteria ecco patrocino della città di trani e che ringraziamo tutta la città di trani c'è tanto c'è pure gli ue trani ah si ah si sponsor si game people al coro non si comanda al wei la palestra wei al corso si comanda emilia sapore la bicicletta andate a piedi se game people giocate a carte grazie per gli sponsor e poi abbiamo come poto vedere un agno new entry i tatuaggi fanno male alla pelle un agno entry e fuori c'è un'altra che poi scoprirete quando venite in fumetteria a lucia le grafiche a roma ne fanno schifo e poi chi è estetisti estetista a vedere l'esercizio quando aveva combinato le sedi sta vabbè il pizzeria crisi tutte le entrambe le pizzerie andate a mangiare il che fatto quando è che donna l'esercizio non mi sceglie non mi sceglie non mi sceglie dopo la fiera andiamo dove c'è l'ora o lei basta buongiorno ragazzi siamo sempre noi io frasa meglio il supremo ciao super sei anche del programma la domanda e non puoi fare il pericolo di sta la sede del con il cambiario al fai polo come cambiato le vande famoso sul dark web scusami mi ha detto fare una promozione delle firme vini e tutto bellissimo 3 cartonati due persone il terzo è la sedia detto questo naga oggi ci sono un sacchizzo di novità perciò cianciano in bande proseguiamo la prima di vi ricordiamo like iscrizione al canale seguiteci su tutte e due i social sia su quattrani che la fumetteria di trani link descrizione uno porta l'altro sì sì tu sei allenatore l'ho visto ancora che cos'è non avevo capito che la cosa è narut ok raga proseguiamo con una delle cose più richieste da saverio le bustine della dragon shield e infine la troverete l'espositore proprio della dragon shield per la prima volta arriverà un bellissimo espositore che troveremo direttamente in fiera per l'amico bell'uomo e per tanti altri amici brutti ci sono le clearmatte che sono le bustine che vanno sopra le sigla che proteggono le bustine che vengono allora vabbè c'è ruby ora così di berlusconi poi c'è il jet che si usano e si gettano e la merda da marlene francesco oliva via marino potremmo continuare dall'infinito di jet slate che veramente sì saluto nebula nebola nebola personaggi nebula di i fantagenitori si i fantagenitori si i fantagenitori si i fantagenitori poi è crescita di mentore di nebola e dei fantagenitori no e per me è quello che va bene giri sono fatto che si è da nebola di poi non è fitto per arrangiare a questo punto la così già amico mio sale ave tanti colopo che ho tanti colori e anche senza colori da colori in colore petrolio molti colori come piacciono le cose e vabbè comunque c'era allora abiamo torro tor mi fa torlo tando poi sempre la madre abbiamo magic johnson poi ariel fortizia a ragucare il meno non ho detto anzi io ho raggiunto un bambino orde eren tra i neri invece eren ah 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 l'ho nominato con me finisce un'ora di l'ho nominato ma esistono quali a raro fortissimo ancora rg genna jager jager come cantante 10 un altro 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 lontano attraverso non lo faccio con la borsetta e poi il posto di manuto ah era naruto lui da grande da okage che lui è triste da solo e poi vabbè trago c'è come se lo si fosse si dovrà pescare pescate per me la pinosche blu e ora la prendo così ok e poi ci andiamo tutte in posizione che abbiamo anche scelto poi continuiamo e proseguiamo altri team che sono andati non so se avete visto i video sono andati a ruba non li avete ancora visti sono andati a ruba e sono quando li vedrete capirete il calendario ah per amico mauro il calendario il calendario avvent il calendario giuseppe leonora i tappetini più belli del mondo quelli della dragon con questo il disegno col drago blu e bianco vero il drago nero si si sono le zone vabbè no perché a me non servono le zone ah è vero i ct catering e poi abbiamo il born cappello i cappelli di charizard solo che charizard è stilizzato in lucido in modo tale ti piace si 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 eh no questo è ah lo 06 questo è la maglietta questo viene 25 insomma lo devo prendere solo per la combinazione con la maglietta poi ecco questo è venuto da allenatore il calendario della bellissima lì advent fechissimo fischio senza ovunque preordinate adesso perché poi vi trovate sotto natale e non avete più niente e vi ricordo che partono dal primo dicembre sono finiti i gaggi i raggettini ok ora vabbè no togliamo allora poi resti eren eren sono finiti sono finiti cioè appena vedete il video quindi vedete subito il video scappato rimanete fuori la cometeria dall'uno in poi 5 e 6 di nuyash che sono arretrati il 17 e 26 il 6 e 9 il 5 e nuyash il 6 e 9 il 5 e al retreto il 5 e al retreto labirinto di giungite dirugite esatto di giungi novità tatsuki fujimoto le short story dal 17 al 21 e poi vi ricordiamo che usciranno anche dal 22 in poi blue and gold due nel mirino figo non direi chi siano eh vabbè l'amico peppone che salutiamo no non direi chi siano no non ci sono blue and gold no ma non lo voglio nemmeno sapere bellissimo di Manu Larchenet blast integrale 65 euro da Cocconino Bresso per l'amico Alessandro Chira mamma mia Coccolino Cocconino figo molto abbiamo ruggito di Giungito il mostro di Giungito Soichi di Giungito e Crying Freeman è questo per l'amico Marco giusto giusto yes blu nel 2 e il 3 bellissimo che si unisce non ce l'ho fatto 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 lo so però è fighissimo Spon pistolero poi abbiamo Tommy di Giungito poi abbiamo Super Pets che è di cui uscirà il film si si comunque mi dissocio di Giungito è mio e poi abbiamo boom ma io ho canato un'altra e ci hai lasciato di Giungito allora in teoria in pratica boom per le prime tirature ci sono un poster perciò e poi dicono che poi dicono che non ci sarà più però tra non so e poi qua vi porto due giorni entrambe le versioni prima e dopo e durante nel nel solo di giungito e circo di giungito altre storie di giungento poi mairo di giungito vedi che abbaga domi di giugito obbligo di giugito ruggito di giugito questo è il migliore di giugito e non ha capito niente tutti questi anni non so niente mi sono perso una cosa interessante novità dato che come ha detto prima per la prima tiratura 27 per la prima è trovato disponibile o sì però questo è già prodotto a rete la rete l'amico beffino e la zia che soltiamo a 6 i grandi giocare di yukioh entrambi un po di un pezzo come kent che manca per il signor panzo o il signor pork nasce non dipende a dove ci bisogna no nel senso ha messo il territorio io devo avere almeno 40 lato che la legge è mai appunto almeno 1 e giugio raggiungati ti arretrati quando io tocco il my dress di sing a novità per l'amica meri fatti porta la camura di giungito quattro fratelli di uzuki di giungito non è vero ok queste notizie da baghe monacatari arretrato e ciò con la tia scioccolati e ovvio comunque raga la bellissima grande grande e ho fatto arrivare solo per voi le varie le disponibili in tre cose fatemelo sapere prima comunque spettacolo lasciato stare per la collezione l'opera no è un bello no bello anche un leggero perdita ai chiudato storia sciaman king tutti arretrati black butler numero uno giopo a o numero una che dirà come super mancava e poi jojo di giungi massimo e il basso soggio allora questo è il fumetto per saverio domani pranzo di nuovo davvero dal 1 2 3 così ci abbiamo completo sono solo se volumi sono sei volumi soffittati proprio parco che cosa lupi è la sua immaginione al numero number one blue period number one retretto un po di tempo un caiccio è un corso giapponino in versione e tascabile forse anche meglio che ma lì c'è più ok al buon buon signor ma ti amo e poi ho una novità il 4 cavalli for night of the apocalypse number five qua for altri gio 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 e poi ma non si vado ma non ci vado non ci vado non ci vado ora vedete avvi altro è forse però sotto non è non è molto bellissima ecco sì sì c'è c'è un boom vedi il numero il benano 25 cento euro a 3 4 1 pièce numero bianco a tre quarti entrate tanto il muro è muro staggiano demo slayer 1 pizze dragon ball e poi fornato 4 la novità fatto forse la capola la posta ma non mi toccare la capola la capola ma si è esistito si dragon ball numero 15 poi abbiamo una pisa è di un po' ieri tra cinta bellissima boi sabbis 2 ancora la sveglia no no la sveglia guanno agli arretrati di vero numero 1 a ye mahiro anderni in chante ginice e giorgio giorgio e giorgio giorgio noi abbiamo parlato ancora basta e non basta finisce lo prendiamo da non vedere più nel video a grande il convinto di dannati 56 ha finito a casa abbiamo finito due serie sia il commento di dannati sia il prezzo di tu abbiamo ritorno alla stragrande il club delle stesse un'altra serie completa bella molto interessante storia di osei art anagiro bullismo puro dragon ball evergreen con 17 e 7 e conan numero 2 e 1 e qualcosa di giungito un'altra serie completa da quattro volumi tutto questo in teoria li potete trovare anche alla piena comunque per chi non lo sa è uscito il 18 18 ma non è riuscito questo dovrebbe essere forse dracema nel futuro figo che è la luna e l'opera di stavolta qualcuno c'è si pensa tokyo re venger di canna braga vuoi no volevo dire giungito volevo di giungi però a rotto qualcuno che riguarda grazie mille grazie mille a tutti ieri per la visione siamo a randaggi ci vediamo per un prossimo video ciao 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 non era poi il saluto da dietro non si è visto al suo primo qualcosa a bellissimo senti solo la voce non ve lo mostro perché in tiro 5 euro l'esposizione e se il cartonato vintage ci vediamo la prossima video bella voglio